Ciao a tutti doggy, io sono la doggy color e oggi siamo qui su adopt me perchè ragazzi sono nel stallo privato di Eli dove non possono entrare i fan perchè non per cattiveria ma perchè questo video appunto è per l'outfit e vabbè poi sarebbe un disastro perchè praticamente sarebbe un gioco con i fan e sono anche dal mio secondo account ma lasciamo stare allora ragazzi oggi siamo qui su adopt me perchè come avete detto dal titolo creeremo un outfit creerò un outfit solamente giallo pastello e per questo video ringrazio pink clothes che ha commentato dicendo ciao doggy potresti fare un outfit a tema giallo pastello e il mio colore preferito brava brava io e te siamo già amiche cioè sei una fan uno due siamo amiche già per forza e grazie mille pink clothes perchè adoro, 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 adoro ma perchè il mio colore preferito è il giallo pastello poi fantastico appunto si vede dalle case che ho vabbè allora ragazzi a parte che come vedete siamo quasi al 200 e sono contentissima però stelline e così così diciamo allora ragazzi questo è l'outfit che ora non vi faccio vedere iniziamo togliendoci tutto 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 questo togli e colli ok mettete prima di tutto la faccia questa qui poi andate e prendete andate un pochino un pochino sotto prendete questa che comunque è estiva dato che non dico che ci stiamo avvicinando ma quasi dai diciamo a febbraio ci sta e poi i pantaloni bianchi perchè dai giallo e bianco ecco questi pantaloncini molto estivo questo outfit poi certamente giallo non possono mancare dai ragazzi non possono mancare poi andate su yellow scrivete yellow e troverete questo cappellino che anche se ha questo qui viola comunque è molto carino ed è giallo pastello quindi ci sta? ci sta? ci sta? no qui no non c'è nulla qui vi devo dire la verità non lo so è carina ok quindi mettete questa comunque bella poi continuate mettendo yellow no qui non c'è niente poi qui se andate su yellow sempre troverete questa borsettina che è molto molto carina e dai gialla stag perchè questo è un po' troppo ingombrante e del grande la come dire oddio santo aiuto la statura è questa stylish la faccia questa la seconda e la carnagione come volete voi allora ragazzi questo è l'outfit completato a me piace un sacco ora spero anche alla ragazza che me l'ha consigliato che grazie ancora grazie 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 perchè è troppo bello grazie a pink clothes quindi ragazzi questo è tutto io vi saluto e aspettate che vi faccio salutare dal mio secondo account ma ciao ma salve vabbè io vi saluto e spero che questo appunto questo outfit vi piaccia sia alla ragazza che me l'ha consigliato e sia a tutti voi che state guardando questo video scusate per l'inattività comunque ora la community come avete visto in un video e andate perchè metto i sondaggi e metto anche delle novità su adopt me e tante cose e ora posso anche come dire posso anche mettere aiuto non mi ricordo mi potete menzionare dei vostri video però dovete avere più di 500 iscritti e posso oddio santo non mi viene la parola vabbè posso taggare ecco posso taggare anche delle persone dei video però che hanno un canale youtube quindi tipo ciocciola franci dreams e magari franci dreams può vedere qual video non lo so però deve uscire blu se avete più di 500 iscritti comunque grazie 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 per i 500 iscritti perchè sono contentissima dai 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 che tra un po' arriviamo a mille tra un po' però credo in voi e crederò per sempre in voi io ragazzi vi saluto un bacione iscrivetevi al canale tappate la campanellina per non perdervi nessun altro video lasciate tantissimi ma tantissimi like ciao ragazzi ciao ciao